buongiorno a tutti eccomi di nuovo qua con un'altra all acquisti aliexpress sempre di cancelleria queste sono le cose che mi sono arrivate questa settimana allora innanzitutto volevo far vedere questi washi bellissimi piccoli che io trovo che vadano benissimo per dare un po di colore per separare i giorni sulla mia agenda sono all'incirca tre sei sono dieci li ho pagati sui due euro e devo dire che vanno bene ho provato ad aprirne uno adesso se riesco ve lo faccio vedere vedete e devo dire che appiccicano bene poi ho preso altri adesivini qui ce n'è sempre 45 e adesso se riesco ve li faccio vedere un po meglio non so se riesco a farveli vedere molto bene però ci provo anche questi tutti diversi sono anche rotondi anche questi non pagati più di due euro adesso di preciso i prezzi non me li ricordo però come vi ho già detto nei video precedenti se volete il link dove li ho acquistati li trovate sempre sul 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 gruppo acquisti aliexpress poi ho comprato i fogli per la doc ebook a 6 con cerniera questi viola adesso non so se si vede bene a quadretti questi invece verde acqua a righe adesso sto aspettando la doc ebook a 6 con cerniera verde tiffany mi sono arrivati prima i fogli della dell'agenda ma non importa aspettiamo e a milano e ferma in dogana come al solito le poste italiane adorano farsi desiderare e poi ho comprato questi sticker ben due bustine forse addirittura tre perché non mi sono ricordata da una volta all'altra ne avrò per tutte le mie agende fino alla nausea sono qui chiusi in questo cartoncino molto bello si apre così e poi dentro trovate gli stick che hanno svariate forme bandierine striscioline qua ci sono delle gocce dei triangoli dei fiorellini delle stelline delle palline adesso non si vedono però sono tutti i pre tagliati qui addirittura l'etichettina adesso non so se riesco a farvela vedere vedete e sono davvero 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 fino alla nausea belli ce n'è veramente tantissimi e anche qui un euro e 52 euro non ho mai superato i due euro e belli confezionati bene arrivate in ottime condizioni sono davvero davvero soddisfatta e niente purtroppo questa volta avevo pochissime cose però ci tenevo a mostrarvele ne devono ancora arrivare compresa appunto come vi dicevo prima la docky book a 6 con cerniera e niente vi auguro una buona giornata e alla prossima un bacione